Il quarto posto con quella odierna contro le Elpidiense, ritmi alti e omogeneità tra i reparti. Le peculiarità di questo Chieti che stupisce per la sua voglia di vincere, sempre. Le riprese sono di Luigi Cinquino, quanto di meglio si è visto nell'arco dei 90 minuti di gioco. Fischia Giovanni Piro Mallo di Torre del Greco e il tredicesimo spaventa, sinceramente parlando, questa punizione di Cetteroni, alzata per un pelo in angolo da De Torre. Comincia a piovere, viscido e insidioso diventa il terreno di gioco. Ne fa le spese Tatomira al ventitresimo, fuori per infortunio, al suo posto entra Oresti. L'immediata risposta arriva da Genchi. Il Chieti è sterile in fase conclusiva. Manca la giusta determinazione e l'Elpidiense ne approfitta. Al trentottesimo, Ledda colpisce il palo. I marchigiani ci credono, prendono forma. Quarantunesimo ancora Ledda ad impegnare severamente De Torre. Questi frangenti pericolosi finiscono quando l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Sospiro di sollievo, meno male. Termina così, 0 a 0. Ripresa. De Torre subito al lavoro. Siamo al primo minuto. Il Chieti scuote la testa. Così non va. Tenacemente ci prova Rosa al settimo minuto. Schiaccia bene, fuori. L'Elpidiense viene annientato. Anestetico nero-verde. Nono minuto Genchi e la sua specialità. Armellini. Lo conosciamo tutti. Si replica al decimo minuto su Marini. Diciottesimo. Fa tutto bene, amo Dio. Peccato. Tiro di scarsa efficacia. Il Chieti non riesce a scardinare il muro difensivo. Eretto dall'Elpidiense. C'è da scoraggiarsi. E intanto i minuti passano. Ventesimo. Genchi cerca la giocata di classe. Gli va veramente male. Solitamente accade sempre così. L'episodio voluto e ottenuto. Marilungo. È il rigore. Rigore. Non ci sono dubbi. Dal dischetto Genchi è straordinario. Uno a zero. Vantaggio che arriva come una sorta di liberazione. Scipiglia appena entrato ha la palla buona tra i piedi. Armellini c'è. Il Chieti ha pagato e fin troppo sciolto nelle sue giocate spreca con Genchi il possibile reddoppio. Da brivido questa mischia in area teatina. Finalmente l'ottimo dettorre riesce in qualche modo ad arpionare il pallone. Il portiere Nero Verde salva nel vero senso della parola il risultato al 46esimo. Vediamo un po' cosa è successo. Balzo Felino ed è fatta. Quanto è bravo questo ragazzo. L'avvenire è suo. Magari ancora con il Chieti. E perché no? In seconda divisione. Direttore innanzitutto complimenti per il suo abito, per il suo gessato. È in vena di festività oggi? Ha festeggiato la società assieme ai ragazzi che sono stati eccezionali. Hanno raggiunto il quarto posto in classifica. Hanno sommato 42 punti in 19 gare. Quindi un grande successo di tutti. Della società, dei tecnici, della squadra, del pubblico. Quindi della città. Siamo contenti. Speriamo di mantenere questa posizione e poi di affrontare questo sogno. Che era un sogno prima a dicembre. Quale sogno? A novembre. Era un sogno di arrivare il pre-off. Adesso abbiamo un altro sogno. Cioè? Quello di poter vincere il campionato. Vincere nel senso di vincere il pre-off. Può ripetere di direzze a tutti. Speriamo di vincere il pre-off. Perché se noi partecipiamo il pre-off non giochiamo per fare comparsa. Ci giochiamo per vincere. Mi sembra una cosa normale. È ovvia. È rinare che si partecipa per perdere. Molto bene. Si aggiusti la gravatta per favore. Grazie. Giuseppe Genchi. Insomma quanti gol hai fatto? Se non vado un ratto. Sono 11. Sì. 11 gol qui col Chieti. Sì. Importanti. Visto il buon momento del Chieti. Qual è stato il più bello? Quello di oggi? Per caso. No, no, no. Io non vado a quello del più bello. Forse quello di oggi perché è stato il più importante. Però il più bello non ci sta. Sono sempre importanti i gol. Alla fine quando si vince sono sempre importanti. Importanti sono i suoi gol. Giuseppe Genchi. Ma l'intera formazione del Chieti. Assolutamente sì. Se io faccio gol vuol dire che la squadra ha lavorato bene. E il gruppo lavora sempre bene. Quindi se Genchi fa gol è anche soddisfazione di tutto il gruppo.